Ciao a tutti ragazzi sono di Gerasilix e bentornati su Uncharted 4, oggi vi spiegherò come si ottiene il trofeo corri e spara, la descrizione del trofeo dice esattamente così, elimina 50 nemici sparando dalla cintola alla ceca, io adesso non so chi abbia fatto questa descrizione ma per me è un tanto inesagerata, per me bastava semplicemente scrivere ragazzi uccidete 50 nemici senza mirare, ovvero sparando così con l'R1 mentre correte eccetera eccetera adesso chiaramente in questo breve video non vi faccio vedere tutte e 50 le uccisioni ma vi faccio vedere giusto l'ultima che poi alla fine mi ha dato il trofeo, in questo caso io poi mi apposterò dietro un muro, dietro questo muro schiaccerò semplicemente R1 senza mirare e ucciderò l'ultimo nemico che mi mancava per il trofeo, è tanto che per la contentezza alla fine sono pure morto, ovviamente ragazzi la difficoltà a cui sto affrontando la missione devastante, non è né medio né esploratore, con questo trofeo è tutto, vi ringrazio il vostro DJ e ci sentiamo per il prossimo trofeo di Uncharted, ciao!